Sì, buonasera a tutti, iniziamo un attimo con il patrimonio, sì, lei è il signor Colsetti Massimiliani e lei è la signora Polizia Vanessa, Polizia, per debiti di ufficio e norma loro do lettura dell'articolo del codice civile che regolano i diritti e i doveri conci tra loro. Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, assistenza morale e materiale. Alla collaborazione e l'interesse della famiglia e della coabitazione, entrambi i conci sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro, professionale o casalinta, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I conci concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia se conta le esigenze di entrambi e quelle premienti della famiglia stessa. A ciascuno dei conci spetta di poter attuare l'indirizzo è concordato. Articolo 147. Il matrimonio impone ad entrambi i conci l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole di vento contro la capacità dell'inglinazione naturale e dell'aspirazione dei figli. Lei, signor Colsetti Massimiliano, intende prendere in moglie la più presente Polizzi Vanessa? E lei, signora Polizzi Vanessa, intende prendere in marito il più presente Colsetti Massimiliano? I signori testimoni hanno udito? Sì. Il nome della legge dichiara che il signor Colsetti Massimiliano e la signora Polizzi e le vanesse sono unite in matrimonio il cedrano 4 agosto 2012. Auguri... faccio... applausi le... applausi le... applausi le pelle applausi le pelle casi le pelle a voi io vorrei ringraziare per questo bellissimo testimonio spero che vi portano una buona fortuna per tutta la vita vostra grazie buoni testimonio genitori grazie allora corsetti massimiliano e polizzi polizzi l'anno del 2012 a D4 del mese di agosto alle ore 18 e minuti 0 nella casa comunale avanti al sindaco Sorge Giovanni sono stati uniti in matrimonio corsetti massimiliano nato in Ceprano l'11 luglio 1963 residente in Ceprano cittadina italiana e polizzi e polizzi Vanessa nata in Crosinone il 18 aprile 1983 residente in Ceprano cittadina italiana sono stati presenti a tale matrimonio Mastro Mattei Andrea nato in Crosinone il 21 gennaio 1974 residente in Crosinone Sera Giampiero nata in Ceprano il 30 giugno 1974 residente in Vossa Cesia Vasselli Federica nata in Crosinone il 14 maggio 1974 residente in Crosinone De Luca Valentina nata a Crosinone il 14.1.1984 residente in Crosinone gli sposi alla presenza degli stessi testimoni hanno dichiarato di aver scelto il regime della separazione dei beni a norma dell'articolo 162 del codice civile il presente atto viene eletto agli intervenuti di quali tutti insieme al sindaco lo sottoscrivono di quali tutti i i i i i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.